Sì, grazie che state facendo i lavori adesso proprio quando devo registrare, porco demonio! Salve a tutti per la gente, qua per voi Luke e ben ritrovati nel mio show. Oggi, signori, si parla di un canale che ha pochi iscritti e che mi do del cu... Che c'ha pochi iscritti, raga! Perché, raga, quello è un canale che non deve avere pochi iscritti, deve proprio esplodere, cacchio! C'ha due! Due iscritti, cacchio! Solo due iscritti? Non è possibile questa cosa! Il canale in questione è il canale Il Watcher! Questo canale, praticamente, è un canale dove si parla di non creepypasta, episodi di gamble perduti, robe del genere... Ed è un canale che è praticamente ispirato a un canale che ha tipo 100.000 iscritti E i video sono fatti bene, sono editati bene, sono scritti bene... E perché c'ha due iscritti? Due fottuti iscritti e 200 visualizzazioni totali? Perché? Ragazzi, io vi lascio il canale qui sotto in descrizione e nel primo commento, quindi mi raccomando cliccateci sopra E andate a seguire questo fottutissimo Watcher! È un fottutissimo genio! Ok? I video li fa bene, li sa montare bene, li sa registrare bene, li sa scrivere bene, sa fare tutto quanto bene Solo che ha due iscritti, che sono io e probabilmente sua mamma E non è possibile questa cosa, capito? Cioè, proprio non è possibile!